A Paolo Ardemagni, Vice Presidente di Backbox, chiediamo prima di tutto chi è Backbox e cosa fa? Backbox è un'azienda di sicurezza che fa il backup e il restore delle configurazioni di sicurezza di tutti gli apparati, router, switch, bilanciatori, firewall e così via, e permette alle aziende di avere un'unica dashboard, quindi un'unica visione di quello che sono le maggiori e le più importanti feature che servono a sapere per coloro che gestiscono l'asset e quindi le appliance di tutte le aziende. Quindi è un asset management tool, è uno strumento che permette di avere con un unico occhio sotto controllo tutto quello che è l'asset delle aziende. Qual è il vostro rapporto con i T-Way e cosa chiedete ai T-Way? Beh, come sempre è difficile lanciare aziende poco conosciute, Backbox è un'azienda che comunque è presente in tutto il mondo, abbiamo filiali, 5 filiali in Europa, abbiamo chiaramente la sede anche negli Stati Uniti, l'R&D in Israele dove tutti sanno risiede tutto il know-how per quanto riguarda la sicurezza. Come si lavora col canale? Si cerca di dare al canale, quindi ai rivenditori, quegli strumenti per fare un po' di soldini e questo noi riteniamo che gestendo con noi tutto l'asset, tutte le appliance che sono sul lato dell'utente finale, i rivenditori possono guadagnare molto in servizio. Quindi noi vendiamo questi servizi che possono essere rivenduti all'utente finale e permettono di fare degli ottimi margini per il canale. Quindi noi lavoriamo con i T-Way che ci fa da distributore e il nostro business più che altro si fa in ambiente enterprise, quindi aziende che devono gestire il loro asset in tutta Italia e in tutto il mondo. Visto la specificità delle soluzioni che voi proponete al mercato, che tipo di supporto date al canale sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista commerciante? Beh, innanzitutto è facilissimo dire che, mi è facile dire che il nostro prodotto servizio è molto semplice, è un po' come installare un'app, tanto per intenderci, e poi sono molto contento di dire che abbiamo praticamente i ticket completamente chiusi nelle 48 ore che vengono rilasciati. Quindi la parte di supporto tecnico è veramente un fiore all'occhiello di questa azienda. Il canale e quindi il distributore, non specifico i T-Way, ci fa da supporto primo e secondo livello, quindi le loro persone sono assolutamente schillate per dare ai rivenditori supporto di primo e secondo livello.